Questa sera continuiamo direttamente a parlare e a leggere nel Tania l'argomento in cui ci siamo fermati che è il motivo per il quale Akkadosh Baruch Hu vuole che noi ci si impegni così tanto nel fare le mizuot. Quindi abbiamo questo compito e ci è stato spiegato che è molto facile, molto semplice, è molto vicino al tuo cuore, alla tua bocca, al tuo cuore per metterlo in pratica, non per trasformarti, perché per trasformarti abbiamo bisogno di studiare tanta Torah, ma per mettere in pratica una mizuot non è un problema, si può fare facilmente. Ora, per arrivare ai giorni di Mashiach dobbiamo fare tanti mizuot, quindi il motivo per il quale noi facciamo tutte queste mizuot è perché Akkadosh Baruch Hu ha voluto affinare il mondo e di questo siamo molto bravi, perché facciamo le mizuot e anche sappiamo perché le facciamo. Però voglio leggere insieme a voi, nelle parole del Tania, come si rivela questa cosa e se sarà qualcosa che non è mai successo prima oppure era già successo. Seguitemi, inizio subito perché se faccio un'introduzione a voce, poi finisce come tutte le altre volte che non riusciamo ad andare avanti. Quindi mi trattengo e lasciamo parlare il Tania che ci spiega tante belle cose. Ora noi ci siamo fermati più o meno qui, anzi molto più su, vediamo dove siamo qui. Eccolo qua. Riga 22, è ben risaputo. Quindi che cosa stiamo dicendo? Che quando arriverà a Mashiach, Akkadosh Baruch Hu sarà la nostra luce, non avremo neanche più bisogno della luce del sole. E fino qui avevamo spiegato. Andiamo avanti. È ben risaputo che l'era messianica, specialmente il giorno della resurrezione dei morti, sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo. Poiché a tale scopo esso fu creato. In altre parole, quando Akkadosh Baruch Hu ha creato il mondo, l'ha già creato nell'impostazione di Mashiach. Modalità Mashiach. Così è stato creato il mondo. Infatti abbiamo spiegato diverse volte che subito il secondo versetto della Torah c'è scritto Il mondo era totalmente ricoperto di acqua e c'era lo spirito di Hashem che avvolgeva il mondo e Chachamim dicono che quale spirito di Hashem? Lo spirito di Mashiach. Quindi Ruach Elohim è Ruach di Mashiach. Quindi per quello dice a tale scopo esso fu creato. È stato creato il mondo per lo scopo che abbiamo visto all'inizio. Quindi l'era messianica e il giorno della risurrezione dei morti sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo. Per quello che i Chachamim dicono sia nel Talmud che il Rambam lo riporta come Allah, che coloro che non credono nel giorno della Tehiyat Ametim, della risurrezione dei morti, è uguale a non credere nella Torah, a non credere in Moshe e non credere in Hashem. Così grave? Faccio fatica a credere che un giorno ci sarà la risurrezione. È così grave? È grave perché stai mettendo in discussione lo scopo, l'obiettivo della creazione del mondo. È come se tu stai dicendo che il mondo non ha uno scopo. Perché? Perché qui il Tania ci spiega che lo scopo della creazione è il giorno della risurrezione dei morti. Rileggo per la terza volta. Sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo. Ora aggiunge una nota il Tania e dice che noi sappiamo, anche abbiamo letto nella parasha di ieri tantissime volte, che Hashem ci chiede di fare le mitzvot nella parasha di ieri, che è una parasha piccola di 64 su Kim, credo. La Torah ci ha regalato 51 mitzvot, quasi un record. Il record lo detiene la parasha di Kiteze nel Chumash Devarim con 74 mitzvot. Va bene, però è una parasha molto più lunga. La parasha di ieri è una parasha molto corta, con tantissime mitzvot. Quindi lì troviamo spesso alla fine di ogni versetto la parola Ania Shem. Ania Shem Elokechem. Ania Shem Elokechem. Ania Shem Elokechem Asherodseti etchem Emeretz Mitzraim. Oppure Vejaretame Elokech Ania Shem. Quindi tutte queste parole Ania Shem sono Hashem. In altre parole è come se lui dicesse fidati di me. Io sono colui che ti ha promesso la ricompensa e quindi ti puoi fidare. Sono affidabile. Sono un creditore che paga. Non dormire sonni non tranquilli quando hai fatto una mitzvah. Forse non sarai ricompensato. Non ti preoccupare di me, ma ha anche un'altra faccia della medaglia. Se invece non fai le mitzvot, Ania Shem. Io che ti ho chiesto di fare questa mitzvah e tu non hai consentito, non hai mantenuto il patto che abbiamo stabilito, anche lì Ania Shem, così come sono io l'Eterno che sa pagare i propri debiti, sa anche farsi pagare i debiti nei suoi confronti. Perché io ti ho creato, ti ho dato il sostentamento, la vita, la salute, la famiglia, la casa, tutto quanto, solo per questo motivo. Lo scopo è per arrivare al giorno dell'era messianica, della risurrezione dei morti, anche il premio, il giorno in cui ci sarà il premio. Se tu non eri presente, allora nello stesso modo Ania Shem. Ora Altania ci dice che il premio, leggiamo questa nota, in riga 26, il premio ai giusti verrà dato essenzialmente nel settimo millennio. Come è affermato nell'Icutettura di Rabitzchaklura di Benedetta Memoria, qui potremmo entrare in un argomento molto interessante, molto profondo, che spiega che in questo mondo, prima dell'era messianica e prima del settimo millennio, fin tanto che la fisicità prevale sulla spiritualità, la ricompensa non sarà mai una vera ricompensa, perché la materialità, che è limitatissima, limita la ricompensa. Nel settimo millennio sarà un'era in cui la materialità sarà completamente annullata alla forza spirituale che la crea, quindi perderà la sua forza limitatrice, potremmo essere, diciamo, idonei a ricevere una ricompensa che non è limitata ai limiti della materialità, fisicità di questo mondo. Mi sono spiegato? Mi piacerebbe che questa sera, anche in più che siamo in pochini, siate un po' più dinamici nel, diciamo, partecipare più vivamente alla lezione, perché vi rivelo un segreto. Parlare su Zoom ci si stanca un sacco, ve l'ho già detto dieci volte, specialmente quando non sento, anche perché con la condivisione dello schermo non vi vedo neanche, perché devo, devo vedere quello che leggo. Quindi sentire la vostra voce, fatemi una domanda, chiedetemi di rispiegare, ditemi abbiamo capito, mi dà la possibilità facilmente di andare avanti, altrimenti sembra che devo tirare un carro. No, magari la risentiamo un'altra volta così la capiamo veramente bene. È chiaro, è molto chiaro. È vero. Era chiaro? Sì, per me sì. È chiaro, però è un po' difficile da capire. Esatto, esatto. Per meno io vorrei la busta numero due, con la domanda di riserva. Allora, dato che siamo materiali vi state limitando e quindi non fate domande. Ecco, siccome studiamo Torah che non è materiale, usciamo da questo limite della nostra materialità e facciamo domande. Facciamo questo salto e entriamo in una atmosfera spirituale e quindi liberiamoci dai nostri limiti, dalla paura di fare una domanda. Si può solo imparare. Non succede niente se si chiede di ripetere due volte o di fare una domanda che una persona dice non la propongo perché forse non è una domanda interessante. Fate qualsiasi domanda perché so che stiamo parlando di argomenti che non si incontrano per strada e quindi bisogna tuffarsi in questi argomenti. Stiamo parlando del settimo millennio, del mondo che perderà la sua forza, la sua materialità. Capisco, però se vi viene in mente qualsiasi cosa mi farà solo piacere e farà piacere a tutti qua. Ma la perdita di importanza della materialità, cioè l'uomo stesso darà meno importanza alle cose materiali e si sposterà più su un profilo spirituale oppure proprio la materia diventa meno meno evidente, meno pesante. Dice. Succederà entrambe le cose. Vi leggo cosa dice il Rambam quando parla dei tempi di Mashiach. Ok, in quell'era non ci sarà né fame, né guerra, né invidia, né competizione perché l'abbondanza sarà elargita in misura talmente grande che qualsiasi piacere sarà alla portata di tutti come adesso lo è la sabbia, la terra. E non daremo nessuna importanza alla fisicità del mondo ma soltanto al conoscere il nostro creatore. E per questo in quell'era saremo grandi Chachamim e conosceremo cose che ora sono celate completamente e riusciremo ad avvicinarci con la nostra mente al nostro creatore in base alla nostra forza. Come è scritto nel versetto Yeshaya in profeta Isaia, Kimaleaha aretz de'aytashem, il mondo si riempirà di conoscenza divina così come l'acqua ricopre il mare. In altre parole oggi noi andiamo in giro per strada come dei perfetti ignoranti diplomati. Quando arriverà Mashiach saremo dei grandi Chachamim, dei grandi Sag. Questo è per due motivi. Il primo motivo è perché non daremo importanza alla materialità ma perché non daremo importanza alla materialità? Perché la materialità si metterà da parte, sarà affinata grazie a 6.000 anni di mitzvot, un po' meno ma vabbè già da Dama Rishon possiamo contare le mitzvot che ha fatto. 6.000 anni di mitzvot che hanno indebolito la forza della materialità e si farà spazio la vera luce di Hashem. Andiamo esattamente in questa direzione nell'argomento e leggiamo riga 4. L'autore del Tanya ci ricorda che coloro che non credono nella risurrezione dei morti possono fare affidamento a Matantorah. A Matantorah c'è scritto che siamo tutti morti e se siamo tutti morti come mai siamo qui? Perché a Matantorah c'è stata la risurrezione dei morti. Tehiyat Amitim. Rika 4. È già stata fatta esperienza di ciò in terra. Non stiamo parlando cose che qualcuno ci ha raccontato. In misura limitata chiaramente non è stata una risurrezione dei morti che avevano riposato già per tanto tempo sotto terra ma eravamo appena morti e Hashem ci ha risuscitato subito. Nel momento in cui fu data la Torah come sta scritto a te sono state fatte vedere queste cose affinché tu conosca che il Signore è Dio e non venne altri fuori di Lui. In altre parole quando abbiamo ricevuto la Torah abbiamo visto una rivelazione divina così elevata che non eravamo capaci non avevamo gli strumenti per poter competere contro questa luce così forte. Avete presente quando sono al buio accendo una lampadina? La lampadina deve essere alla portata dei miei occhi. Se io accendo in casa in una stanzina da dieci metri quadrati il faro che sta in riva al mare e serve per illuminare a giorno le navi che transitano una luce così è una luce che non solo non potrò vedere ma causerà dei danni alla mia retina, agli occhi eccetera eccetera. Quindi tutto deve essere alla portata di chi riceve. Quando io vado ad insegnare ai bambini dell'asino non posso insegnare il Tania perché? Perché loro non hanno la capacità di capire quello che noi stiamo studiando. Quindi dobbiamo sempre essere bravi a misurare. Quando abbiamo ricevuto la Torah Kadosh Barqah ha voluto farci vedere che cosa ci stava regalando e quindi ha spento completamente la forza limitatrice del mondo fisico e siamo stati travolti da un'ondata di luce che non eravamo in grado di sostenere e quindi siamo tutti morti. C'è scritto chiaramente nella Torah, nella parasha di Vahet Hanan, Moshe Rabbeinu dice siete venuti da me a dirmi di fare da tramite tra Hashem e voi. Parlerai tu con noi e noi potremo sentire e non parlerà più con noi Dio se no moriremo. Perché hanno detto questa frase? Perché era già successo e non volevano morire una seconda volta. Lo spiega dopo. Vi volevo dire qualcosa ma lo spiega dopo. Quindi noi quando apriamo la Rona Kodesh, ogni Shabbat, iniziamo con un versetto che è proprio questo. A te sono state fatte vedere queste cose affinché tu conosca che il Signore è Dio e non venne altri fuori di Lui. Quando abbiamo ricevuto la Torah non c'era più niente che poteva convincerci il contrario. Quando tu hai visto qualcosa può venire una persona a raccontarti che non è possibile? Può parlare per ore ma non mi convincerà perché io l'ho visto. Quello che una persona vede non può essere messo in discussione e quindi c'è un altro versetto che dice sono state fatte vedere. Non ricordo. Scusate, apro. No, infatti non è un versetto. Lui riprende le parole Sì, eccole qua. Riprende le parole del Pasuk. Sono state fatte vedere. Queste parole a riga 6 le ripete di nuovo per sottolinearle e dice sono state fatte vedere nel senso che abbiamo visto in una visione sensoriale nel senso una visione pratica materiale. Abbiamo visto fisicamente con i nostri occhi fisici che non c'è niente a parte Hashem. Questo noi abbiamo visto. E infatti c'è scritto tutto il popolo vide i tuoni. Che cosa vuol dire? Che i tuoni non si possono vedere. I tuoni si possono sentire. Giusto? Quando io ho la berahà dei tuoni è perché ho sentito un tuono. C'è la berahà del lampo è perché ho visto il lampo ma il tuono non posso vederlo. E il lampo non posso sentirlo. Il tuono e il lampo sono due berahot che facciamo quando c'è un temporale. Uno per la capacità che ho di vedere e uno per la capacità che ho di sentire. Ma la Torah dice tutto il popolo videro ciò che normalmente si ode. Vide i tuoni. E questa è una cosa che non è umana. E quindi ed i rabbini di benedetta a memoria spiegarono che essi si volsero verso oriente ed udirono le parole che venivano proferite. Quindi quando Hashem ha parlato loro ha detto Anohi Hashem Elokecha il primo dei dieci comandamenti io sono eccetera. Quando hanno sentito la voce di Hashem si sono girati e hanno visto la voce di Hashem ma la voce si sente non si vede. E così pure se si volgevano ai quattro punti cardinali che cosa succedeva? Che vedevano la voce di Hashem da quell'altro punto e si alzavano lo sguardo verso l'alto o verso il basso vedevano la voce di Hashem che arrivava da tutte le porti. Ciò che corrisponde anche a quanto spiegato nei Tikkunim, Tikkunim vuol dire nello Zohar, che cioè non c'era luogo dal quale egli non parlasse loro. In altre parole hanno potuto trovarsi all'interno della parola di Hashem. Ora per capire un pochino meglio cosa vuol dire vedere le parole, cosa vuol dire vedere i tuoni, una cosa che non siamo abituati a sentire, vedere qualcosa che si sente. Intanzitutto dobbiamo ricordarci che noi non possiamo vedere tutto. Ci sono cose che noi possiamo vedere, ci sono cose che noi non siamo in grado di vedere. Se uno mi dice hai visto cosa è successo lì a Genova, a Genova, ma io sono a Milano. E va bene, a Genova cosa sei? Sei lì, no? Io ti parlo dall'Israele, tu sei a Milano, vedi cosa succede a Genova? Sì, ma io con i miei occhi non arrivo a Genova. O anche al contrario, se io prendo un libro e l'appiccico agli occhi, ce l'ho davanti ma non vedo niente. Devo metterlo in una distanza molto limitata che il mio occhio è in grado di vedere. Da qui a lì, di più non posso vedere, più lontano non vedo, più vicino non vedo. Giusto che siamo limitati. Ok, su questo non discutiamo. C'è una famosissima storia di un maestro, sapete, quando il comunismo è stato introdotto nella Russia dopo la guerra, la prima guerra mondiale, è stato deposto lo zar, i comunisti hanno preso il sopravvento e è andato avanti dal 1917 fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Per tanti anni i comunisti hanno fatto da padroni in Russia. Una delle basi del comunismo è che Dio non esiste. E quindi arrivavano i maestri giovani nelle scuole e cambiavano completamente il programma di studio e uno di questi giovani maestri si è trovato in una classe e doveva spiegare loro che Dio non esiste. Perché? Perché noi sappiamo che esiste solo quello che vediamo con i nostri occhi. Quello che non vediamo non esiste. Ad esempio, vedete i muri? Sì, vuol dire che esistono. Vedete voi stessi? Sì, vuol dire che esistete. Allora il maestro a un certo punto dice qualcuno di voi ha mai visto Dio? Chiaramente tutti i bambini hanno detto no e questa è la prova che Dio non esiste. Allora un bambino un pochino furbetto, un pochino intelligente ha detto a tutti gli altri amici. Bambini, vedete l'intelligenza del maestro? E tutti hanno detto no, vuol dire che il maestro l'intelligenza non l'ha ancora ricevuta. Questo perché? Perché non siamo tutti capaci di vedere tutto. Noi abbiamo una capacità molto limitata in quello che possiamo vedere. Ora il pasuk dice il popolo video, vide i tuoni. Cosa vuol dire vedere le voci? Le voci è chiaramente qualcosa che non si può vedere. E Rabi Akiva che dice nel libro che spiega il Humash Shemod, si chiama Mechilta, Rabi Akiva dice si vedeva quello che normalmente si sente. Infatti anche Rashi lo riporta. Rav, ma guardi che possiamo anche vedere le tue parole volendo perché se lei parla in un microfono e questo microfono lo colleghiamo a un frequenzimetro, è un oscilloscopio, lei vede benissimo le onde sonore che produce la sua voce. Quindi noi non vediamo neanche gli ultravioletti, non sentiamo neanche gli ultrasuoni, cioè Hashem ha fatto vedere la sua voce, come si vede, ha fatto vederle praticamente cose che l'uomo non può vedere. Esatto, ma che cosa significa? Che cosa vuol dire? Che abbiamo avuto questo strumento e questo strumento ci ha fatto vedere che c'è qualcosa di parlo. No, 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 Hashem non ci servono gli strumenti. Esatto, ma il significato di vedere la voce di Hashem nel momento più importante della storia dell'umanità. Che cosa voleva dirci questo? Qual è il messaggio? Perché Hashem ha fatto questo miracolo? Ha tolto la protezione del mondo, ha tolto i filtri che praticamente noi abbiamo in questo momento e che ci permettono di vivere. Se no moriamo anche noi, non è che noi siamo superuomini. Esatto, esatto. Ma perché quando Hashem ci ha dato la Torà ce l'ha tolta? Per far vedere la potenza, per far vedere quale sarà la luce del Moschia. Anzi la luce del Moschia sarà ancora di più, perché più di quella di Shaddai mille volte non so di più che. Hai ragione, ti sei portato un pochino avanti, hai ragione. Volevo spiegarlo in parole chiare. Diciamo esattamente che cosa è successo quando abbiamo ricevuto la Torà. Allora, noi abbiamo l'abitudine e la convinzione che tutto quello che noi vediamo esiste veramente. Questa è la convinzione di chi vive in questo mondo fisico. Vedo il muro, il muro c'è. Vedo me stesso, vuol dire che ci sono. Vedo le persone con cui interagisco, le persone ci sono. Non abbiamo domande su quello che vediamo. Su che cosa noi abbiamo domande? Su quello che non vediamo. Su quello che abbiamo imparato per sentito dire. Ho sentito che c'è un'isola da qualche parte in cui ci sono delle persone che vivono in un certo modo e che hanno un certo tipo di colore di pelle, una certa lingua. Li ho mai visti? No. Sei sicuro che esistono? Per sentito dire. Cioè, il problema cos'è? È che esistono o che tu non li hai visti? Io limito me stesso a quello che vedo. Mi hanno raccontato che c'è il primo ministro a Roma. Io non l'ho mai vista, la signora Primo, non l'ho mai vista. L'avete vista voi? Io non l'ho mai vista. Abbiamo visto le fotografie, abbiamo visto il video. ma forse è un prodotto della tecnologia, della intelligenza artificiale. Chi lo sa se veramente lei esiste? Forse è un complotto, forse, sapete, oggi si inventano di tutto di più. Hanno detto anche che il 7 ottobre non è mai esistito. Dicono anche questo, che la Shoah non è esistita. Dicono anche questo, quindi possiamo mettere in discussione tutto quanto. Perché? Perché non l'ho visto, è solo per sentito dire. Quindi ci raccontano che Hashem esiste. Apro la Torah, la Torah mi racconta che un popolo di 15 milioni di persone ha visto Hashem. E queste persone sono i miei genitori. E quindi hanno raccontato ai loro figli, ai figli, ai nipoti, ai nipoti, ai pronipoti, fino a che è arrivato a me oggi, raccontato, accompagnato dal libro. E questo libro è la testimonianza di quello che loro ci stanno raccontando. Però non l'abbiamo mai visto fisicamente, loro sì, noi no. Quindi quando una persona vede qualcosa davanti ai propri occhi, per lui è chiaro. Non devi convincerlo. Però il problema è che deve essere convinto quando non lo vede davanti agli occhi. Quindi una persona non chiederà mai su se stesso. Io esisto? Non chiederai mai su te stesso se esisti. Perché? Perché sai che esiste. Basta guardarti allo specchio. Però tanta gente, se li chiede se credono in Dio, si fermano a pensare. Adesso capiamo cos'è successo a Matantorah. In quel momento il popolo ha visto quello che era per sentito dire. Quello che fino a quel momento era per sentito dire, non era più shomim, non era più sentito, era visto. Vuol dire che HaKadosh Baruch Hu ha deciso una volta nella storia, e l'ha detto subito dopo, ha detto non succederà più. Col gadol veloi asaf. Una voce potentissima e non si è più ripetuta questo evento di Matantorah. E quindi HaShem ha deciso, ha voluto di rivelarsi personalmente al popolo ebraico e gli ha parlato direttamente. E loro si sono elevati, nonostante che erano fisici, si sono elevati in un livello spirituale così alto che hanno potuto vedere quello che veramente è la realtà delle cose. Che fino a quel momento era semplicemente per sentito dire. Non riuscivano più a vedere il mondo, perché il mondo è una realtà discutibile. HaShem è una realtà infinita e indiscutibile. Ma noi qui siamo alla rovescia. Questo è il mondo che si chiama Olam Afuq, il mondo alla rovescia. Che io vedo che il mondo esiste veramente, non vedo HaShem, che è l'esatto contrario della vera verità, della vera realtà. Quindi in quel momento era chiarissimo per loro in modo assoluto che c'è HaShem e HaShem parla con me senza nessun'ombra di dubbio, così come vedevano una persona fisica che parlava con loro, di cui non avevano dubbio. Una volta c'era una discussione tra le persone se chi è più vicino ad HaShem, i chassidim, gli oppositori alla chassiduti, l'itaim, eccetera. Sono storie del passato, per fortuna, però si parlava molto, c'era molto antagonismo in questo, diciamo, ambiente. E uno aveva detto, guarda, la differenza tra i chassidim e i non chassidim è che i chassidim pensano tutto il giorno a loro stessi, mentre i non chassidim pensano tutto il giorno ad HaShem. E quelli tra loro che non erano chassidim erano molto felici di sentire questo complimento. Noi pensiamo tutto il giorno ad HaShem. I chassidim no, pensano tutto il giorno a loro stessi. Ma la persona che aveva dato questa descrizione ha detto, fermatevi un attimo, adesso vi spiego quello che ho appena detto. Intendevo dire che i chassidim non hanno mai un dubbio se HaShem esiste o no. Non devono pensare ad HaShem, non devono pensare a questo. La loro fede è talmente chiara, è talmente assoluta, è totale, che non è un problema, non è un argomento che li assilla. mentre gli altri tutto il giorno pensano ad HaShem. Perché? Perché io esisto, su questo non c'è dubbio. Se HaShem esiste, questa è la domanda. E quindi continuo a pensare ad HaShem. I chassidim pensano sempre a loro stessi, perché continuano a studiare nella chassidut che il mondo non è un mondo, che la materialità è solo una proiezione, che invece è solo la parola di HaShem che vuole mantenere viva la creazione. Se non ci fosse la parola di HaShem, in un attimo tutto tornerebbe a essere il nulla assoluto così come lo era prima della creazione. Quindi devo pensare a me stesso. Io esisto? Sono una realtà? Oppure sono soltanto una volontà di HaShem momentanea? E questo mi fa paura e quindi penso sempre a me stesso. Ma di HaShem non devo pensare. Lui è la vera verità. E quindi impariamo da questo versetto ro imetakolot, vedono quello che sentono. che ogni volta che ci viene un dubbio se veramente HaKadosh Baruch Hu è presente in ogni cosa, in ogni momento, in ogni mia azione, in ogni mio pensiero, ogni volta che mi viene in mente questo dubbio ricordiamoci che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato una volta questa esperienza. Il problema era che siamo tutti morti perché non eravamo in grado di contenere questa esperienza. Ecco perché noi oggi non vediamo HaShem. È un regalo continuo che ci fa. Lui mantiene vivo questo filtro che nasconde la sua presenza perché se dovesse un attimino spegnersi, se dovesse saltare il relais, il fusibile, l'interruttore di questo filtro che è continuamente attivo che ci nasconde la sua presenza, boom, la verità verrebbe fuori e noi non ci saremmo più. Perché se vogliamo esistere noi dobbiamo per forza chiedere a HaShem di nascondersi. Altrimenti ci annulleremmo completamente. Come ha fatto HaShem, d'altronde è anche stato descritto nei minimi dettagli quando HaShem ha avuto una discussione con gli angeli che hanno, diciamo, un pochino denigrato l'essere umano. Volevano loro ricevere la Torah, volevano loro essere il centro della creazione. HaKadosh Baruch Hu ha messo, così si racconta, il ditino tra di loro e si sono bruciati tutti. Nel senso bruciati significa che non hanno potuto contenere la luce di HaShem come i figli di Aaron che sono entrati nel Kodesh HaKodashim e la Torah dice sono bruciati. Cosa vuol dire bruciati? I loro corpi erano integri, sì, ma la loro anima è tornata alla sorgente. Questo è il motivo per il quale noi tutte le volte abbiamo un dubbio. Ricordiamoci queste parole. Abbiamo visto quello che si sente. Quello che era per sentito dire l'abbiamo visto con i nostri occhi. basta aprire e leggere questo passo e mi vanno via tutti i dubbi. Nella sera del seder noi diciamo che c'è il Chaham e c'è il saggio e c'è anche il malevaggio, il Rasha. E al Rasha si dice picchiali i denti. Quando lui dice cos'è questa pratica che fate? Cosa sono queste cos'è questo peso, questo compito, questa fatica che avete preso su voi stessi di mantenere questo patto tra voi e Hashem? A lui non gli appartiene. Allora la Gadda dice dagli una botta sui denti. Perché? Perché chi parla così è perché ha mangiato cibo non kashir. E quando una persona mangia cibo non kashir automaticamente nascono nella sua mente dei dubbi se Hashem esiste, Hashem non esiste. Perché? Perché ti sei affidato all'energia che si contrappone per volontà di Hashem alla luce di Hashem. Non è che chasve shalom come alcuni pensano che c'è una forza che può contrapporsi a Hashem. Hashem ha creato questa forza che è la kelipà che sono le forze negative e Hashem ha dato loro il permesso di contrapporsi alla sua luce. E quando una persona si affida ha queste forze quindi alimentandosi di cibo non kashir si sveglia la mattina e dice ma dai ma quando mai non l'ha mai visto nessuno è solo nei libri è solo per darci delle speranze eccetera eccetera e lì vengono dei dubbi. Cosa si fa? Si apre il kumash e si dice vechola amro imetakolot hanno visto e abbiamo una testimonianza viva che è la Torah scritta in lingua originale la lingua con il con la quale Hashem ha creato il mondo. Questa è la vera verità. Avrei voglia di chiedere a tutti quelli che dicono che la religione ebraica non è ormai obsoleta bisogna bisogna abbracciare la religione di quella o è la religione dell'altro una in arabo l'altra in greco ma in che lingua Hashem ha creato il mondo? Hashem ha creato il mondo in ebraico e io la mia Torah ce l'ho in ebraico. Perché devo andare ad abbracciare un'altra religione che è una coppia fatta male quando io ho l'originale se ho un bicchiere di acqua fresca da una bottiglia pulita lavata acqua pulita al cento per cento sana e buona perché devo andare a bere nelle pozzanghere e quindi ho questa è una mia Torah la Torah scritta in lingua originale che è stata accompagnata da coloro che hanno visto Hashem e hanno ricevuto queste parole hanno detto è vero c'eravamo tutti abbiamo visto tutti e hanno dato questo libro ai loro figli e figli ai nipoti fino a noi quindi basta leggere ti passano i dubbi la domanda è se io veramente esisto questa è la vera domanda alla quale dobbiamo farci tutti i giorni se voglio arrivare alla vita eterna se voglio agganciarmi alla vita eterna l'unica cosa che posso fare è quella di agganciarmi con la Torah e con le Mitsu mi era venuto in mente di dirvi una cosa a cui pensavo stamattina avevo detto che chi si alimenta di cibo kasher allora attinge la sua energia da Hashem altrimenti dalle altre parti stamattina così camminando mi era venuta in mente questa cosa c'è gente che si trova in difficoltà economica prende un prestito dalla banca la banca vede che lui non può pagare i debiti gli porta via la casa e lui è disperato non ha una casa non ha una macchina non ha un lavoro purtroppo c'è gente così cosa si fa dalla disperazione si va a chiedere soldi a chi? agli strozzini vero? siamo poveri agli usurai agli usurai sì siamo poveri in canna non abbiamo garanzie non abbiamo niente e l'usuraio mi dà 50.000 euro in quel momento da povero sono diventato ricco qual è il problema? come mai ho ricevuto 50.000 euro in un giorno? perché l'usuraio sa che da quel momento in poi lui si è comprato la tua vita e la tua vita vale molto di più di 50.000 euro e ogni volta che tornerai da lui e gli dirai tieni 5.000 euro del debito lui continuerà a dirti no questi sono solo l'interesse e tutta la vita tu dovrai pagare fino all'ultima goccia di sangue sapete quanta gente si è buttata dal ponte dopo aver avuto esperienze con gli usurai perché questo? perché era il modo più facile per ottenere dei soldi il problema è che sei andato a prenderli dalle forze del male e quando tu vai a prendere i soldi dalle forze del male automaticamente hai venduto la tua vita a loro quindi se avevi una proprietà loro scovano che tu hai una proprietà anche se l'hai nascosta sono bravissimi avevi un terreno avevi una villa al mare te la portano via avevi una macchina da qualche parte te la portano via tutto quello che avevi te lo portano via ma questi sono solo gli interessi tu dovrai continuare a lavorare per pagare l'interesse per forza che la gente si butta dal ponte non ti sei fatto una domanda prima di prendere questi soldi dell'usurai come mai tutta la vita hai faticato per ogni euro che hai guadagnato e da un giorno all'altro ti arrivano in tasca 50.000 euro c'è qualcosa che puzza no? sì ma la disperazione e la disperazione ti fa fare delle cose e delle scelte veramente sbagliate perché vi racconto tutto questo? perché quando una persona si affida al cibo non casher o a tutte le altre cose vietate da Hashem Hashem dice ok lo so che con me è dura lo so che io ti do il tuo sostentamento goccia a goccia ma è tuo te lo meriti non voglio darti tutto voglio aspettare che arriva Mashiach per darti la tua ricompensa se ti do tutto adesso non avrai la vera ricompensa qui in questo mondo fisico in questo mondo materiale è limitato non c'è la mia ricompensa non può materializzarsi devi aspettare che la materialità perda la sua forza perda la sua non mi viene la parola la sua la sua sostanza no oggi vince la materialità sulla spiritualità in italiano la prevalenza la prevalenza quando due superiorità esatto quando due pugili uno sta vincendo quindi uno prevale sull'altro giusto? esatto questa è la parola quindi fin tanto che la materialità prevale sulla spiritualità la tua ricompensa sarà limitatissima e quindi tu ti stai bruciando la tua ricompensa per quello che ha Kaddosh Baruch Hu in Israele la pioggia oh finché arriva quest'anno Baruch Hashem eravamo tutti bravi abbiamo fatto teshuva purtroppo purtroppo dopo il 7 ottobre Hashem ci ha sentiti più vicini a lui eravamo noi più vicini a lui perché il 7 ottobre quest'anno c'è stata una pioggia incredibile in Israele ma perché non l'anno scorso? perché in Israele dobbiamo pregare per ogni goccia di pioggia quando in Libano e nell'isola lì a Cipro e in tutta l'Europa il Talmud è pieno di queste storie di Chachamim che vedevano le nuvole che li passavano sopra Israele andavano fermatevi perché ogni goccia in ero di Israele è contata perché è nostra ci appartiene ma Hashem non vuole regalarci quello che non ci appartiene adesso perché ce lo vuole tenere per dopo allora cosa facciamo noi? lascia stare andiamo dagli usurai Hashem sai che cosa? non abbiamo bisogno di te ma il momento che tu vai dagli usurai non hai venduto solo tutto quello che hai ma hai venduto anche te stesso ti sveli la mattina e dici ma Hashem esiste veramente questa è la prova che ti sei affidato agli usurai questa è la prova che hai mangiato cibo non kasher un ebreo nasce con la fede in Akkadosh Baruchu naturale ogni anima che è legata con Akkadosh Baruchu non ha bisogno di sforzarsi e perché allora dobbiamo studiare argomenti che ci ricordano e ci rinforzano la nostra fede perché purtroppo abbiamo assorbito dell'impurità in giro e questa impurità mette in grave difficoltà la nostra fede perché ci siamo affidati alle forze che ci regalano tutto infatti uno dice ma quando mai io devo fare Torah o Mitzohat guarda come sono benestante non ho mai messo il tefilino in vita mia non ho mai infatti le forze del male e così è scritto nella Kabbalah regalano tantissimo Esav era ricchissimo Yaakov ha dovuto lavorare giorno e notte non poteva chiudere occhi un secondo non poteva abbassare la guardia altrimenti Lavan li fregava tutto perché Yaakov Avino che sei la colonna portante di tutta la generazione ma fino ad oggi noi viviamo grazie ai meriti di Yaakov perché lui ha dovuto soffrire perché Esav aveva tutto quando Yaakov gli manda i regali dice non ho bisogno tanto più di quello che ho bisogno perché Esav che era l'uomo più malvagio della generazione aveva tutto perché lui si affidava agli usurai e gli usurai ti danno ma però devi vendere la tua vita devi vendere la tua anima devi vendere tutto quanto riflettiamo prima di mettere qualcosa in bocca vogliamo quello che Akkadosh Baruch Hu ha deciso di darci adesso per adesso sa quello che fa sa esattamente quello che ho bisogno ma è nostro arriva da lui è la cosa più bella quando arriva da lui la bracha più bella che abbiamo è la bracha dei koanim il viso di Hashem si rifletterà su di te di nuovo Hashem eleverà il suo viso nei tuoi confronti vuol dire non come le forze del male che c'è scritto che loro appartengono alla schiena così come due persone che si odiano che devono far passare un oggetto o uno deve pagare all'altro non possono guardarsi e quindi glielo dà dalla schiena e quindi Akkadosh Baruch Hu affida alle forze del male del sostentamento perché anche loro hanno bisogno per influenzare questo mondo la parte che appartiene a loro nel suo mondo si chiama Akhorayim dalla schiena invece noi riceviamo da Hashem direttamente è perché così a gocce a gocce perché Hashem vuole tenerci tutto quanto per l'era in cui la spiritualità prevarrà sulla materialità e dato che le Mitzvot hanno un effetto spirituale fortissimo devastante sulla materialità aspetta un po' di pazienza e arriverà anche questo torniamo a leggere le righe del Tania dove siamo eccoci qua non lo vedo più voi che cosa vedete no abbiamo no credo che ho sbagliato ogni tanto mi fa questo scherzo vediamo se lo vedete ecco vedete ok benissimo si benissimo ok va bene per finire l'argomento che parlevamo del fatto che noi siamo al livello in cui non abbiamo dubbi per noi Hashem è come se lo vedessi con i miei occhi fisici oggi non lo posso vedere ma non preoccupatevi perché abbiamo tante profezie che leggeremo adesso nel Tania che ci dirà che arriverà il giorno che vedremo anche noi sapete oggi quando si legge nei giornali finisco questo argomento e poi dopo riprendiamo a leggere quando si legge nei giornali che la scienza ha scoperto qualcosa nessuno mai metterà in dubbio tutti al 100% come delle pecore la scienza ha scoperto qualcosa dieci anni dopo ti racconteranno nella sesta pagina del giornale in un quadrato così che si erano sbagliati completamente ma fa niente l'importante era credere alla scienza e tante volte la scienza si propone come un'alternativa alla Torah e tu dici ma la scienza dice così io come faccio a credere che il mondo ha 6.000 anni se la scienza dice che ha 14 miliardi di anni e la risposta è molto semplice la risposta è che la scienza non si contrapone mai alla Torah semplicemente è molto più lenta ad arrivare alla verità noi non abbiamo dubbi il mondo ha 6.000 anni non abbiamo nessun dubbio la scienza ci sta ancora arrivando date il tempo alla scienza per arrivare la scienza non è in contrasto con la Torah a volte anche gente che studia Torah che fa le mitzvot si sentono in difficoltà ma come la scienza dice la scienza ha scoperto la scienza sostiene ma tu hai il libro della verità e la Torah è stata data da Hashem e lui è l'unico che sapeva quanti animali esistono che hanno un solo segno di Kashar quattro non ce ne sono cinque l'avevo spiegato una volta e fino a oggi 3.300 anni dopo non si è trovato un quinto animale abbiamo il cammello la lepre e il coniglio che sono ruminanti ma non hanno lo zoccolo spaccato abbiamo il maiale che ha lo zoccolo spaccato non è ruminante la Torah li mette in fila questi quattro li elenca non ce n'è un altro e come faccio a sapere che non ce n'è un altro però trovamelo oggi abbiamo i satelliti i droni come si chiamano quei programmi la televisione geografic national geografic abbiamo science tutto trovami un quinto animale che ha uno dei due non c'è perché chi l'ha scritta la Torah è quello che ha creato il mondo e quindi non può esserci neanche se lo fai in laboratorio non ce la fai e quindi se io ho il libro della Torah che è la verità e tu mi porti il libro della scienza il libro della scienza che cos'è? è un'opinione degli esseri umani limitati nella loro mente nella loro facoltà di capire nella loro facoltà di interpretare gli elementi che hanno a disposizione pochissimi e ti dicono che il mondo ha 14 milioni di anni miliardi di anni 14 miliardi di anni perché non 13 perché non 15 no 14 e questo e a questo la gente non può mettere in discussione la scienza l'ha detto e metti da parte la Torah per un libro aspetta ci arriveranno anche loro Hashem sa quando succederà che anche loro ci arriveranno e sarà un bel momento per tutti e quindi il nostro lavoro tutti i giorni è quello di vedere quello che normalmente si sente dal giorno di Matantorah abbiamo avuto la capacità di poter vedere quello che normalmente si sente ok leggiamo ancora qualche riga e vediamo dove siamo riga 20 e questo perché la rivelazione di che cosa stiamo parlando che quando Hashem parlava noi vedevamo e questo perché la rivelazione della sua benedetta volontà nel decalogo nei dieci comandamenti costituiva un epitome dell'intera Torah un riassunto di tutta la Torah quando Hashem si è rivelato a noi dandoci dieci comandamenti nei dieci comandamenti c'è il riassunto di tutta la Torah e c'era tutta la luce della Torah e per quello che siamo stati travolti da una forza che non eravamo in grado da una luce da un'onda di luce che non eravamo in grado di contenere e siamo morti che cos'è l'intera Torah che è la parte più intima della sua benedetta volontà e saggezza e in essa non c'è assolutamente alcun ascondimento dell'aspetto divino quindi quando a Kadosh Barucho si è rivelato per darci la Torah si è rivelato per darci se stesso e se stesso non è a Kadosh Barucho quando si rivela ha tolto questo filtro e si è rivelato e quindi abbiamo visto come abbiamo detto nel presetto all'inizio Hashem dice Moshe Rabbeinu dice al popolo tu hai potuto constatare con i tuoi occhi Rashi dice nel Parashat di Vaytranan Rashi dice che a Kadosh Barucho ha strappato i sette mondi e ci ha fatto vedere la sua infinita luce quando abbiamo presenziato Matan Torah il giorno in cui abbiamo ricevuto la Torah abbiamo visto la vera verità l'assoluta verità l'infinito avanti come c'è scritto poiché alla luce del tuo aspetto tu ci hai dato la legge di vita che cosa vuol dire che la Torah è Orpanecha la Torah è la legge di vita e la Torah è la luce la luce del tuo aspetto quando io apro un libro di Torah ho davanti a me la luce di Hashem perciò la loro esistenza degli israeliti ai piedi del Sinai si riduceva proprio a nulla cosa è successo si sono annullati come hanno insegnato i rabbini cioè ad ogni parola di Hashem la loro anima se ne fuggiva l'anima non voleva più rimanere nel corpo non era più in grado di rimanere in un corpo fisico piccolo striminzito e limitato l'anima ha visto la luce di Hashem ha detto che ci sto a fare qua lì voglio essere qua voglio essere insieme ad Hashem che ci sto a fare in un corpo fisico stessa cosa che hanno fatto i figli di Aaron quando hanno visto il fuoco scendere dal cielo e consumare i sacrifici per la prima volta nella storia hanno detto non è che ci stiamo a fare qua sono entrati nel code Cacodashim e sono saliti in cielo non era la volontà di Hashem infatti era era un momento molto difficile sia per il padre ad aver assistito a dover assistere a questa cosa sia per il popolo in un momento di gioia così grande dover seppellire due grandissimi tzaddikim era un momento molto difficile ma loro non hanno potuto fermarsi davanti alla luce di Hashem per quello che Hashem ci ha dato la Torah perché la Torah filtra la luce di Hashem infinita ma nel momento in cui ci ha rivelato la Torah non c'era il filtro e quindi non abbiamo potuto rimanere vivi non siamo potuti rimanere vivi infatti legge Riga 4 ad ogni parole di Hashem la loro anima se ne fuggiva ma il santo benedetto la restituiva allora con la rugiada con cui egli farà rivivere i morti questo è scritto nel Talmud il Talmud parla dei sette cieli e dice che cosa c'è in ognuno dei sette cieli c'è un cielo se ricordo bene si chiama Sheik Hakim Sheik Hakim perché c'è un Rechaim c'è un mulino che macina la rugiada con la quale Akkadosh Baruch Hu quando arriverà il momento il giorno della risoluzione dei morti usirà questa rugiada per risuscitare i morti ora noi che cosa pensiamo quando sentiamo queste parole come al film di Walt Disney la polverina magica della fata non è questo ci rivela adesso il Tanya che la rugiada non è altro che la Torah che noi studiamo quando io studio Torah la Torah che studio mi crea una forza per poter contenere una luce più grande della rivelazione della Torah studio ancora Torah ho ancora più forza e quindi mi elevo continuamente all'infinito più Torah studio e più sono più forte più sono più potente più sono più in grado di poter contenere una luce più grande della Torah leggiamo questa è la rugiada della Torah che è chiamata potenza infatti come ho detto la Torah è la potenza come i rabbini hanno detto chiunque si occupi della Torah è rianimato dalla rugiada della Torah studio Torah mi occupo della Torah vengo rianimato dalla rugiada della Torah che è la rugiada che mi fa risuscitare infatti Tzadikim che studia la Torah 24 ore su 24 la loro vita è tutta un'altra vita per loro ogni secondo è una vita intera ma un altro argomento leggiamo ancora qualche riga più tardi tuttavia per il peccato del vitello d'oro allora la domanda che noi ci facciamo se è così vero che al momento del dono della Torah abbiamo ricevuto tutto questo luce tutto questo benessere tutta questa potenza perché siamo adesso qui nel buio deboli e sfiancati e mezzi depressi e continuamente alla lotta per la sopravvivenza eravamo in una situazione e come siamo adesso in questa situazione ce lo spiega a causa del peccato delle vitello d'oro tanto essi quanto il mondo divennero di nuovo materiali ci siamo di nuovo materializzati abbiamo fatto l'errore più grande della nostra vita e lo saranno fino alla fine dei giorni quando le scorie del corpo cosa vuol dire le scorie del corpo vuol dire la materialità superflua del corpo che copre sulla spiritualità e anche quella del mondo saranno purificate ed essi saranno in grado di accogliere la rivelazione della luce divina quando arriverà Mashiach il giorno della venuta di Mashiach sarà il giorno in cui sarà portato a termine il lavoro di 6.000 anni quello di indebolire la materialità sulla spiritualità ha creato questo mondo e quando l'ha creato a causa del peccato di Adam la materialità ha prevalso sulla spiritualità e noi dobbiamo ricapovolgere la situazione questo è il nostro lavoro il giorno che arriva Mashiach è il giorno in cui noi abbiamo completato di capovolgere la situazione e la materialità sarà ripulita delle sue scorrie che illuminerà Israele a mezzo della Torah chiamata potenza anche quando arriverà Mashiach avremo bisogno della Torah perché la Torah sarà la continua potenza per darci la capacità e la forza come abbiamo letto nella Ramba prima di poter imparare e avvicinarci e diventare sempre più Chachamim sempre più saggi e conoscere di più Hashem sempre tramite la Torah e la potenza della luce che illuminerà Israele dissiperà anche le tenebre dei gentili qui dice una cosa bella da sentire che i giorni di Mashiach non saranno solo per noi saranno per il mondo intero vuol dire tutte le nazioni saranno purificate dall'impurità delle scorie della fisicità come sta scritto e le genti cammineranno alla tua luce un pasuk che dice tutte le nazioni saranno pronte e felici di seguire la luce di Hashem così è scritto sempre in Ishael tutti questi adesso sono versetti che a cascata Tania ci porta sono tutti versetti che si trovano nel libro di Ishael oppure c'è casa di Iacov venite e camminiamo nella luce del Signore chi dice il popolo ebraico a tutto il mondo ed ancora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti gli esseri viventi non soltanto il popolo ebraico così dice Ishael tutti gli esseri viventi insieme che cosa vedranno che la creazione non è altro che la parola di Hashem quindi dato che la parola è una cosa che si sente quando arriverà a Mashiach questa parola che si sente la vedremo torneremo alla situazione del dono della Torah quello che normalmente si sente noi lo vedremo ecco che troviamo nel versetto di Eshaia esattamente questo concetto e per entrare un altro versetto questo versetto è molto crudo ma fa parte di Eshaia per entrare nelle fessure delle rocce nei crepacci delle rupe dinnanzi al terrore del Signore dinnanzi alla magnificenza della sua gloria che cosa ha detto ha detto che quando arriverà a Mashiach gli esseri umani si comporteranno come si può dire su zoom scarafaggi non lo so cosa succede quando uno entra in una cantina buia e umida e accende la luce succede che ci sono i topi scarafaggi che scappano nelle fessure perché loro non possono contenere la luce e quindi scappano nelle fessure quando arriverà a Mashiach le nazioni entreranno nelle fessure delle rocce spostati fammi spazio nei crepacci delle rupi perché saranno terrorizzati dalla luce di Hashem ed innanzi alla magnificenza della sua gloria è un passuk molto crudo ma molto bello e come noi preghiamo nella tefillah di Rosh Hashanah e fa brillare la magnifica gloria anche a Kippur e fa brillare la magnifica gloria della tua potenza su tutti gli abitanti dell'universo non soltanto sul popolo ebraico lo diciamo a Rosh Hashanah su tutti gli abitanti dell'universo e con questa frase noi abbiamo finito il capitolo 36 però volevo dirvi qualche cosa qua mi è sfuggito di che cosa stavamo parlando ah di questo versetto entrare nelle fessure delle rocce nei crepacci delle rupi dinanzi al terrore del Signore questo esempio non l'ho mai letto non l'ho mai sentito me lo sono inventato Shabbat quando camminavo al Betakneset ho ricevuto un regalo di Hashem e l'ho ricevuto per voi e quindi lo condivido con voi ci sono delle persone che hanno meritato di sposarsi e ci sono delle persone che hanno meritato non solo di sposarsi ma anche di avere figli tutti dicono figli maschi figli maschi ma quando uno ha una femmina e arriva il giorno del matrimonio della figlia c'è un momento molto 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 emozionante quando la figlia arriva pronta per essere accompagnata sotto la cupa cerchiamo di entrare e immaginarci questo momento cosa succede? succede che normalmente la cupa è verso le sei di sera giusto per dire però la sposa si è svegliata alle sei di mattina perché? perché deve prepararsi a parte che è il giorno che deve fare la tefilà deve fare teili e lei deve cercare di sincronizzare tutto il giorno più spirituale della sua vita con il giorno anche più bello della sua vita deve essere anche bello fisicamente quindi deve farsi truccare deve farsi l'acconciatura deve provare il vestito riprovare il vestito e riprovare il vestito e quando finalmente cinque minuti prima della cupa il padre bussa alla porta e ci sono tutte le amichette tutte escono e il padre rimane da solo con sua figlia e si abbracciano e scoppiano in lacrime perché scoppiano in lacrime? perché per la figlia è un momento molto bello ma per il padre è molto di più perché? perché il padre è cresciuto e ha imparato un mestiere e ha affrontato le sfide della vita e ha vissuto tutta la sua vita per arrivare a questo momento al matrimonio della figlia dico la figlia perché il papà è più legato alla femmina allora dico la figlia ma anche anche con i maschi succede uguale la mamma col figlio è un esempio ora cosa succede? succede che in quel momento la figlia non riesce a parlare e le lacrime rovinano tutto il trucco e quindi il padre dice e si abbracciano e c'è questo momento e poi escono insieme e il padre accompagna la figlia la cupa è un momento diciamo che vale la pena vivere una vita per arrivare a questo momento immaginate che il padre ha poco tatto e entra nella stanza senza bussare quando ancora la sposa la sua figlia sposa non è vestita ora cosa si sente? si sente non un urlo ma dieci perché lei è sempre lì con le amichette ah papà esci fuori papà no avete presente quando un uomo per sbaglio entra nella toilette delle donne? ah si sente urlare oppure va e vuole provarsi un vestito nel negozio e per sbaglio spero per sbaglio è entrato nel camerino delle donne e si sente urla fuori perché? perché non sono vestito e quindi la figlia si mette a urlare dice papà no non siamo fuori peccato rovinare un momento così aspetta che arriva al momento giusto e ogni cosa fatta nel momento giusto è la cosa fatta nel modo migliore e quindi il momento più bello può essere rovinato se fatto nel momento sbagliato ma cerchiamo di trattenerci cerchiamo di pazientare perché il momento è il momento bisogna che tua figlia sia vestita truccata acconciata tutta bella pronta per la cupà non un secondo prima ora questo è soltanto l'esempio di che cosa stiamo parlando il giorno in cui arriverà Mashiach sarà questo momento esattamente il profeta dice che quando arriverà Mashiach lo descrive così anzi il profeta dice la parola di Hashem io vi invio prima del giorno grande e terribile che è il giorno della venuta di Mashiach allora o è un giorno grande che è piacevole o un giorno terribile scegli ma dimmi che cosa sarà sarà grande ma sarà terribile perché perché alcune persone saranno come questa sposa che è pronta e per lei sarà il giorno più bello e più grande di tutta la storia e qui ci sarà un abbraccio tra Hashem e il suo popolo che è una cosa che da quando Hashem ha creato il mondo sta aspettando ma potrebbe anche essere terribile se non siamo pronti e vestiti e come si fa ad essere pronti e vestiti è scritto che i vestiti sono le mitzvot che noi facciamo e quindi adesso abbiamo capito perché siamo arrivati fino alla fine del capitolo 36 per spiegarci dopo tutti questi capitoli che ci ha spiegato dell'importanza di fare le mitzvot della facilità con il quale noi possiamo fare le mitzvot vestiamoci perché quando arriva il momento deve essere il momento giusto ecco perché a Kadosh Barco non ci elargisce adesso la ricompensa delle mitzvot settimo millennio ha detto Larisal perché se io me lo merito dammelo adesso possiamo rovinare tutto possiamo rovinare questo momento così bello così speciale con un pochino di 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 frettolosità se così si può dire in italiano aspettate il momento giusto e l'abbraccio sarà un abbraccio così grande così potente così emozionante da fare lacrimare come non abbiamo mai vissuto una emozione fino ad oggi questo è il giorno in cui arriverà Mashiach e questo è il giorno in cui noi dobbiamo è il giorno in cui noi aspiriamo ma non basta aspirare bisogna essere pronti quindi non bisogna essere seduti sul divano e dire se arriva arriva quando arriva arriva io sono qua per me non è un problema no alzati vestiti preparati che quando arriva Mashiach tu devi essere pronto il Rebbe aveva detto al rabbino capo di Israele che è venuto nel 1991 a novembre del 91 è venuto a New York e si sono incontrati nonostante che Rebbe già in quegli anni non riceveva più in udienza privata nessuno ma aveva fatto un'eccezione perché era un grande tzaddik Razmordechai Eliyahu il Rebbe gli ha detto guarda che Mashiach è alla porta di ogni casa semplicemente la gente non apre la porta e non lo fa entrare in casa perché? perché come il padre che sta aspettando dai dobbiamo andare alla cupa il padre dice alla figlia no non entrare non sono pronta non voglio che entri adesso e questo è quello che stiamo facendo noi ogni giorno non è che Mashiach deve arrivare Rebbe nel 91 ha detto Mashiach è già alla porta semplicemente il problema è che siccome non abbiamo voglia di alzarci e di vestirci per accoglierlo allora lo facciamo tardare ma ricordiamoci che arriverà il giorno in cui il padre entra la prende per l'orecchio ci sono tutti gli ospiti tutti gli invitati esci andiamo alla cupa peccato rovinare così questo momento così bello sarebbe molto più bello molto più emozionante essere vestiti di tutto punto belli e luccicanti pronti e lavati e purificati e questo sarà il momento in cui la materialità perderà la sua forza davanti alla prevalenza della spiritualità vi auguro che questo mi auguro e vi auguro che questo succederà oggi così il mondo potrà godere della luce di Mashiach e non soltanto il popolo ebraico ma tutto il mondo come abbiamo appena letto Shavua Tov grazie a tutti